buongiorno parliamo piano ci siamo solamente io e fly sono le ore 6 del mattino e niente noi ci proviamo a fare una passeggiata mattutina e soprattutto a vedere l'alba non so come si prospetta la giornata se c'è il sole o no proveremo a riprendere il sole che sorge e qua sul mare della mia città altrimenti niente faremo questa passeggiata mattutina comunque insieme giù c'è il forte e niente quindi ci incamminiamo la mia città altrimenti è la mia città altrimenti è la mia città altrimenti attenzione e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.